Oggi è un grande giorno per EFA perché presentiamo finalmente, dopo tanto tempo, Perspective. Perspective è un modulo di Inductive Automation, un modulo che fa parte della piattaforma Ignition e dà ad Ignition quella sfumatura web che tutti andavano cercando. Il web è ovviamente quella caratteristica che è assolutamente di grande richiesta per il mercato e quindi riteniamo che l'averla mostrata durante questa occasione dell'SPS darà un impulso notevole alla piattaforma Ignition che è già stata inserita sul mercato italiano attraverso altri moduli, specialmente il SQL Bridge per la raccolta dati, ma Perspective sicuramente con le sue caratteristiche di permettere lo sviluppo di applicazioni web che consentono l'utilizzo del mobile, quindi diciamo dell'iPhone, dei tablet, sia a livello manutenzione che a livello di diagnostica, credo che possa dare un impulso notevolissimo anche alla piattaforma che è la vera novità dello scenario della software di manufacturing che in questo momento necessita il mercato per la digitalizzazione.